Che bontà, fin quando avrei vissuto a Genova mi accompagnerà per sempre diciamo ecco, lo mangio almeno un paio di volte a settimana. Ormai la mia compagna grazie alla nostra vicina ha imparato a farlo in casa quindi è ancora più buono che quelli comprati diciamo, confezionati. Io l'ho mangiato ieri sera quindi diciamo che ormai, come ha detto Mattia, fa parte anche della nostra dieta. Allora, pinoli, basilico, aglio, lo continua a te? Olio, sale e formaggio. Che formaggio però? Di capra, così no. Latte valcino sicuro, quindi facciamo parmigiano. Sì? Eccolo l'altro. Mi piace il peggiano. Pecorino. Bravo! Ma che sei proprio io? Vai, vai. Mi sa così. Se hai due mani sei bravo. Sbagliato. Di me la prima, dai. No, questo è già appestato, papi, non serve. No. Così dici. No, Masterchef l'ho visto, però pure Giorgia lo fa quindi, però non lo so. È buono questa roba. Che ne so, si... È buono, buono. È buono, ma se vedi il colore, non dirò il colore. È buono, eh? Butta la pasta che è. Se lo mangiamo qui. Con le trofie? Eh, le trofiette. Ma a te come piace? Con le patate e i fagiolini o senza? Senza. Così. Non so, ci voglio. Vedi!